Buon pomeriggio a tutti, intanto grazie di essere qui con noi questo pomeriggio al circolo dei lettori a parlare di scuola. Questo è il terzo incontro intitolato proprio come vedete la scuola che vorrei, la scuola che vorrei, che vorremmo tutti e qui oggi ci sono tutte le componenti, diciamo quasi tutte le componenti scolastiche rappresentate. Inizieremo a sentire quindi la voce degli studenti, dei collaboratori scolastici, quelli che una volta si chiamavano Bidelli e diamo proprio la parola ai ragazzi e ai collaboratori scolastici per primi, non a caso, perché perlomeno io, non so voi, ma in nessun convegno, in nessun forum ho mai visto dare la parola a collaboratori scolastici e ragazzi soprattutto per primi. Perché questa scelta? Perché è molto importante ascoltare ai ragazzi perché tutti i documenti programmatici della scuola, a partire dal POF, POF, piano triennale dell'offerta formativa che vengono presentati alle famiglie, parlano di ragazzi, parlano di progetti da offrire ai ragazzi, però molto spesso ai ragazzi non viene chiesto cosa ne pensi di questo progetto, sei contento, avresti qualcos'altro da proporre e quindi oggi alcuni ragazzi che sono diciamo rappresentativi di quello che potrebbero essere gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ma non solo, perché poi chiameremo anche Camilla che è uscita da qualche anno dalla scuola secondaria di secondo grado ed è nell'ambito lavorativo, perché per fare con lei una riflessione su quello, lei ha fatto un indirizzo di studio e poi ci dirà quale, per capire come nel mondo del lavoro degli indirizzi di studi che lei ha scelto l'abbia in qualche modo aiutata ad acquisire delle competenze spendibili nel lavoro che adesso attualmente sta facendo. Questo per cosa? Non per dirci che la nostra scuola non va bene per fare una, come dire, trovarci qui oggi a lamentarci. Sappiamo tutti che ci sono delle cose che devono essere cambiate nel sistema scolastico. Bisogna avere il coraggio di cominciare a parlarne e cominciare da qualche parte. Dopo aver dato la parola ai ragazzi e ai collaboratori scolastici rappresentativi dicevo delle scuole, di più scuole, ci saranno tre esperienze, cosiddette come si dice oggi buone pratiche. Queste esperienze sono poi delle esperienze che vedrete man mano che le slide scorreranno dietro di noi e che ci parlano di sperimentazioni fatte all'interno delle singole scuole. Quindi ci sarà una scuola primaria che ci parlerà, ci sarà un già dirigente scolastico che arriva dalla Liguria e che ci parlerà di una sperimentazione con degli studenti scuole secondarie di secondo grado. Poi parleremo di inclusione. Gli attori di questo pomeriggio sono tanti, ci sono i genitori, ci sono i DSGA e non vi dico chi sono i DSGA, ce lo diranno loro. Dopodiché però avremo anche un momento di dibattito, ci sono le istituzioni e ringraziamo il sindaco di Caselle di essere qui con noi oggi perché ha avuto il coraggio come negli incontri precedenti di metterci la faccia, di essere qui e di saper ascoltare la scuola. Non è da tutti e abbiamo invertito, ribaltato. Voi sapete che nei convegni sono le istituzioni che aprono il convegno, che in genere fanno i saluti più o meno formali, però molto spesso proprio perché ci sono tante cose da fare, non hanno il tempo di ascoltare tutto quello che viene detto all'interno di quel convegno. Quindi lo ringrazio due volte perché essere qui e avere la pazienza e la voglia di ascoltare tutti trovo che sia una cosa veramente importante, un bellissimo segnale per noi oggi. Non voglio rubare altro tempo, avete capito il senso di questa giornata, ringrazio tutti voi per essere qui presenti, siamo in tanti, siamo in tanti che hanno un'idea di scuola, ognuna la propria, ma siamo qui per confrontarci. Come vedete lì c'è una lavagna, cosa ci servirà? E quindi chiamo la professoressa Roberta Testa perché naturalmente parleranno anche i docenti, che ha dei pennarelli colorati e faremo questa, la proposta è questa, al termine di ogni intervento, di ogni componente, quindi al termine dell'intervento degli studenti, insomma di tutte le componenti che ho citato prima. Noi voti no perché forse per me io li abolirei dalla scuola e poi capiremo perché, ma ne abbiamo già parlato della scuola senza voti. Sicuramente trovare delle parole chiave, non possiamo sintetizzare tutto quello che viene detto, però trovare le cosiddette parole chiave che sintetizzino un po' quello che è stato l'intervento, uno o più parole chiave, di ogni componente. Quindi comincerei con i ragazzi, intanto... Sì, io farei magari un attimo di presentazioni perché siamo partiti subito a sprombattuto. Qui abbiamo il dirigente scolastico Antonella Cardi Benedettini che è il motore di questo ciclo di eventi che è iniziato in primavera. Il primo incontro diciamo è stato un esperimento, ma ha avuto subito un grandissimo successo. Ed è, come ha sottolineato prima Antonella, un caso unico perché appunto non ci sono occasioni per un confronto pubblico sulla scuola coinvolgendo tutte le parti che ne fanno parte, dai genitori agli operatori scolastici, ma soprattutto, come si è detto, tutti siete chiamati a dire la propria, cioè a offrire spunti e idee su come il modello attualmente utilizzato di insegnamento, di didattica, di istituto scolastico possa essere migliorato e come si possa fare un passaggio in avanti per far crescere soprattutto la consapevolezza sia all'interno che all'esterno su quello che oggi si intende per formazione. Spesso negli altri incontri abbiamo iniziato con un video sul pensiero divergente, che è il pensiero che purtroppo la scuola di oggi tende a non favorire e quindi in qualche modo a normalizzare la testa di chi entra dentro l'istituto scolastico. Quindi stiamo cercando di esplorare con questi incontri come si può andare oltre e cambiare questo paradigma. Come si è detto diamo subito la parola agli studenti, quindi iniziamo proprio dai protagonisti della scuola e li introduci tu. Prima ringrazio Fabrizio Vespa giornalista nonché amico che mi aiuta nell'organizzazione di queste giornate e modererà, quindi ci aiuterà a gestire i tempi. Speriamo, speriamo. Ok, quindi ognuno di voi ha un tempo assegnato e quindi vi chiediamo di restare nei tempi che sono stati assegnati. Grazie. Allora cominciamo a chiamare i ragazzi. Allora venite ragazzi, noi vi lasciamo lo spazio. Si sono aggiunte due ragazze della consulta, allora Lorenzo vi presentate, Deliceo Berti, sedetevi pure e poi due ragazze del Passoni, venite. E Camilla vieni adesso, vieni. Non abbiamo la sedia però ti metti qui, dai. Vabbè prendilo. Chi parte? Allora sono emozionati. Varei prima a parlare alle ragazze magari. Buonasera a tutti, sono Giorgia, una studentessa del liceo Berti e sono qua stasera perché mi è stata posta la domanda qual è la scuola che vorrei. Ed è una domanda che viene posta molte volte a noi studenti ma domanda a cui non viene mai... è difficile trovare una risposta. È difficile trovare una risposta e questa risposta che si trova poche volte viene ascoltata veramente. È uno degli avvenimenti che mi ha colpito di più nell'ultimo periodo è stato il poco interesse da parte degli insegnanti di sollecitare un tema di attualità molto importante, ovvero la guerra che è scoppiata nuovamente all'interno della striscia di Gaza. Questo lo sottolineo perché secondo me gli insegnanti devono presentare la capacità di dare a noi studenti la possibilità di creare un nostro pensiero critico in modo tale poi da prepararci a quello che sarà il mondo esterno. Con questo non voglio dire che il programma scolastico non sia importante, ma è comunque importante preparare a noi studenti a quella che sarà la realtà esterna, quindi a come muoverci all'interno di questo mondo perché poi, come ci viene ripetuto molte volte, a noi giovani siamo noi stessi che dobbiamo, cioè ci basiamo solo su noi stessi. Questo potrebbe anche favorire quello che è l'interesse nei confronti del programma scolastico da parte di noi studenti e svilupperebbe quello che è il benessere scolastico e questa è un'altra delle caratteristiche che secondo me la scuola dovrebbe presentare perché ormai noi studenti veniamo visti prima come dei voti e in un secondo momento come persone e questo va a creare la priorità su quella che è l'interrogazione o la verifica piuttosto che a quella che è il concetto che noi interiorizziamo studiando una qualsiasi materia. Credo che non c'è altro da aggiungere in realtà. No, Giorgio l'ha detto molto bene in realtà perché il problema su cui non ci si focalizza abbastanza è che noi stiamo 30 ore a scuola, io vedo più il mio profilo italiano che è mia madre quindi credo che avere anche una situazione non di autocontrollo ma di benessere come dicevi tu quando si guarda in faccia quelle persone che ci dovrebbero aprire alla vita che ci aspetta fuori credo che sentirsi a proprio agio o perlomeno sentirsi considerati secondo quelle che sono le nostre aspettative sia meglio che sentirsi considerati secondo le loro. Anche perché questa situazione che ormai si è creata all'interno degli istituti porta poi anche a creare una situazione di tensione all'interno dei gruppi classe dovuta a quello che è appunto il benessere personale degli studenti perché ormai noi studenti ci svegliamo la mattina pensando subito all'interrogazione o alla verifica che avremo, passiamo le notti a studiare togliendo quello che è il riposo necessario il riposo necessario al nostro corpo e noi studenti veniamo visti più per quello che siamo quindi in questo caso i voti più per quella che è la persona, che siamo noi Buonasera, io sono Ginevra della consulta del liceo artistico Aldo Passoni e anche noi abbiamo riscontrato questi problemi per quanto riguarda le ore di educazione civica che viene fatta sempre e solo a fine quadrimestre quando mancano i voti mentre è una materia che andrebbe svolta con regolarità durante tutto l'anno proprio per formare appunto dei nostri giudizi, dei nostri pensieri riguardo a come funziona il mondo oppure nella nostra scuola ad esempio c'è un numero abbastanza elevato di persone che lasciano gli studi precocemente per scarsa motivazione e problemi personali e questo è preoccupante perché comunque queste persone poi un giorno avranno difficoltà quando saranno adulte mentre la scuola dovrebbe anche insegnare come vivere poi dopo gli studi quindi ad esempio come trovare un lavoro, come scrivere un curriculum, come pagare le tasse e queste cose qua ci potrebbero essere dei modi per incitare le persone a continuare gli studi che io e Sofia abbiamo pensato potrebbero essere lezioni non solo frontali quindi non solo un docente che spiega progetti con associazioni esterne anche per quanto riguarda educazione civica sponsorizzare meglio lo sportello psicologico perché a scuola ci sono ma viene ricordato una volta all'anno l'esistenza mentre è molto importante che uno studente stia bene perché ovviamente se non sta bene lo studente manca la motivazione poi anche fare un quadro della... cioè nella nostra scuola ci sono un sacco di studenti maggiorenni che andranno a votare o che votano già, hanno già votato però nella nostra scuola non viene parlato... non si parla di politica ma anche questa è una cosa molto importante buongiorno, buonasera, sono Sofia della consulta del Passoni come già detto Ginevra che ha un po' esposto le nostre idee noi vorremmo una scuola che ci spiegasse comunque dopo i nostri studi come, non lo so, pagare un mutuo come direttamente spendere il nostro stipendio mettere da parte magari dei soldi per investirli sul nostro futuro o avere comunque un piano di riserva se i nostri studi magari non andassero come volessimo o se magari noi non vorremmo intraprendere l'università cose che magari molti studenti si pongono, cioè questa domanda e magari non riescono a capire bene cosa vogliono fare ad esempio conosco molte persone, anche i miei coetanei che non sanno letteralmente cosa fare dopo la quinta superiore ed è un problema non solo nostro e dei nostri coetanei ma anche per la generazione che verrà, per la nuova generazione insomma e un'altra cosa che noi proponiamo, cioè della scuola che vorrei vorrei una scuola sicura vorrei una scuola dove non ho paura di entrare alle otto del mattino e non riuscire ad uscire all'una o magari all'una e mezza perché magari un pezzo di scuola mi possa cadere in testa o perché non c'è la sicurezza appunto questa è la scuola che vorrei Mi leggo un attimo a quello che ha detto lei quindi quella che è la preparazione da parte degli insegnanti verso noi studenti a quello che è il mondo reale è un esempio pratico che prima mi sono dimenticata di dire a causa dell'ansia sociale essendo qua è quella ad esempio dello studio della storia ai giorni d'oggi infatti all'interno del programma scolastico lo studio della storia si ferma alla fine del dopoguerra che è importantissimo perché ci insegna quali sono le cose da non rifare anche se vedendo cosa sta succedendo nei giorni d'oggi non è ancora ben chiaro però non ci si sofferma mai su quella che è la storia contemporanea e per appunto interiorizzare quella che è una conoscenza globale di tutta la storia perché mettendo pezzettino per pezzettino visto che siamo noi studenti che siamo il futuro di questo mondo essere pronti ad affrontare quello che saranno gli anni successivi della nostra vita per non rifare quelli che sono gli errori già commessi in passato giustissimo io insieme a Giorgia sono il rappresentante dell'istituto del Berti oggi siamo qui a parlare di scuola come ha detto benissimo la dirigente e di conseguenza apprezzo tantissimo l'opportunità di iniziare a parlare di scuola con le persone che in realtà diciamo la scuola grazie a quella esiste perché se le circolari vengono scritte i progetti vengono creati i bandi vengono messi su la finalità è indirizzata a una sola persona cioè noi che siamo una persona sola a me è piaciuto pensare alla scuola che vorrei ed in conseguenza la scuola che ho diciamo paragonandomi a una metafora che mi è venuta in mente purtroppo triste è legata a quello che ci circonda oggi alla situazione drammatica che viviamo cioè quella di una pallottola sparata seguitemi non abbiate timore non ho un'arma con me principalmente cosa vede la mia metafora gli insegnamenti sparati da quella torretta quasi irraggiungibile altissima per noi studenti che è la cattedra vengono sparati nel vero senso della parola quando si spara qualcuno si inibisce si nascondono dentro di noi al massimo le emozioni che si provano verso la persona che diciamo sarà la destinataria di quel proiettile ecco è di questo che voglio parlare di emozioni perché in realtà come ho detto prima noi stiamo a scuola più di quanto stiamo a casa almeno per me io sono uno sportivo non vedo casa mia spesso e quando parlo di proiettili parlo di realtà di di insegnamenti che per quanto siano giusti vengono sparati con la stessa intensità con cui venivano sparati 80 anni fa e questi proiettili rimangono lì fissi fermi in quei muri troppo spessi e chiusi dinanzi alla realtà che c'è fuori è un problema perché comunque i fori che quei proiettili potrebbero creare nei muri se solo fossero più accessibili a quello che è il mondo che ci circonda potrebbero far entrare la luce della realtà della realtà che c'è fuori ecco questa è la metafora che mi piace osservare e perché non riusciamo i muri un muro antiproiettile come lo è un vetro lo è fino a quando non tutti i colpi vengono indirizzati nello stesso punto per farvi breccia e quindi è questo su cui ci dobbiamo concentrare cambiare il nostro obiettivo mettere insieme le nostre forze su un obiettivo che alla fine è quello comune il benessere di tutti perché ammettiamolo neanche i docenti stanno alla meraviglia quando entrano a scuola tutte le mattine o sbaglio cioè io posso immaginare che magari non tutti abbiano l'intenzione di venire tutte le mattine con una classe che magari si dimostra poco attiva quasi passiva ecco la mia cioè la mia la scuola che vorrei vede una scuola dove magari si inizia la lezione chiedendo ai ragazzi un'opinione critica su quello che abbiamo si è spiegato oppure dove si chiede ai ragazzi anche solo un parere su qualcosa che circonda e che fa parte di quella realtà queste cose renderebbero il muro più accessibile il muro scolastico sto parlando e permetterebbero quei colpi che sparati insieme insieme alle emozioni anche di quei ragazzi permetterebbero a questi proiettili di farvi breccia come ho detto prima e di conseguenza far vedere agli occhi dei ragazzi della realtà di oggi che alla fine saranno quella di domani cosa realmente c'è là fuori per prepararci poi quando dovremo uscirci grazie comunque siete bravissimi io sono Camilla ho una storia un po' diversa perché io sono uscita dall'alberghiero cinque anni fa adesso ventiquattro anni sono un po' più grande di loro io sono uscita dall'alberghiero perché la cucina è tutto ciò che voglio fare io cioè non c'è nient'altro che voglio fare nella vita ma per adesso però a me la scuola non ha lasciato niente io ho comunque fatto tutto il percorso grazie ai miei genitori che mi hanno comunque il diploma lo vogliamo anche se vuoi fare la cuoca mi ha lasciato poco perché? perché l'istituto alberghiero o gli istituti professionali sono visti come scuole di serie B cioè io vado lì mi serve un diploma lo prendo facilmente ed è realmente così perché dall'alberghiero nel mio caso non si fa niente niente io vedevo la mia compagna di banco aveva 26 anni 26 anni e faceva quarta superiore ha preso il diploma in due anni è stata brava la mia insegnante d'inglese metteva quattro se non sapevi a memoria il testo io me la cavo bene con l'inglese quindi non studiavo tantissimo però se provavo a dire qualcosa di diverso era sempre un no poca passione ma sì tanto a te serve solo il foglio e mi è capitato diverse volte di andare a parlare con delle classi sempre degli istituti alberghieri nel mio caso e questi ragazzi non sanno cosa devono fare il mondo del lavoro è difficilissimo difficilissimo anche se sei appassionato qualunque cosa è molto difficile e non li vedi proprio motivati ed è tristissimo per me che ho una passione fortissima e credo tanto in quello che faccio vederli così tristi gli insegnanti dovrebbero non tutti abbiamo delle situazioni a casa bellissime le uniche persone con cui ci si può confrontare un minimo sono gli insegnanti se io arrivo in classe e tu inizi a tirarmi giù una raffica di cose a caso tra l'altro senza un motivo io non capisco che a me viene solo in mente di farlo a mia volta zero rispetto io l'ho trovato veramente ho trovato veramente cinque anni di scuola durissimi io preferivo la bocciatura se non che poi i miei genitori mi avrebbero più fatto uscire di casa per me la bocciatura era tanto a me non serve a niente e tuttora il diploma mi è servito perché probabilmente non avrei mai iniziato a lavorare senza quello ma a stare al mondo non mi ha insegnato la scuola e io ho una situazione a casa bellissima perché i miei genitori sono fantastici ma non per tutti è così e quindi alla scuola che avrei voluto chiedo non una casa ma non state lì se non volete starci o se vi è così pesante stare lì perché trasmettete a noi che siamo come i bambini delle spugne tutte cose che non servono grazie grazie per queste testimonianze come? sì certo grazie anche a Camilla che ci ha dato il suo percorso che non è stato un percorso come abbiamo visto facile né felice ed è ed è voluta venire qui a dircelo ha voluto venire qui a dircelo perché era significativo portare la sua esperienza non è stata felice ma lei ha comunque un lavoro e sta svolgendo il lavoro che le piace però chiede di più alla scuola voi tutti ci avete fatto riflettere ognuno naturalmente portando il vostro pezzo di esperienza ringraziamo sia i ragazzi del Berti che voi che vi siete giunti proprio ieri e quindi per questo che non siete citati nella slide ma rimedieremo perché è molto importante ci fornite degli stimoli va bene quindi grazie ancora grazie a voi beh insomma un bello spaccato di realtà dalla viva voce degli studenti anche la metafora del proiettile direi che è molto efficace perché secondo me sottolinea anche il valore delle parole che a scuola si dovrebbero imparare perché le parole definiscono ciò che esiste e ciò che non esiste quindi in realtà sono determinanti rispetto al nostro futuro specialmente quando si impara continuiamo a dare la parola ad altre parti della scuola quindi chiamiamo Betti dov'è? ok Maria Vincenzo ed Emilia e vi lasciamo la parola buonasera a tutti io sono Elisabetta Paolo e come ha detto la nostra dirigente sono una collaboratrice scolastica innanzitutto vorrei ringraziare la nostra dirigente per questa opportunità per la prima volta dare voce alla nostra categoria che è sempre un po' sottovalutata non per partito preso ma sicuramente solo per ignoranza perché il mondo che non è non fa parte della scuola ignora che noi non siamo soltanto chi pulisce la scuola chi pulisce le aule ma il nostro ruolo è ben altro e si occupa di tante altre cose il vidello classico di una volta non esiste più adesso ci sono ovviamente collaboratori che ma siamo tutti diplomati e con un bagaglio lavorativo anche precedente io per esempio sono in questo ambito da una quindicina di anni o poco più e ho cominciato la mia carriera lavorativa facendo l'impiegata nel privato poi come tutti sappiamo le donne devono un attimino anche muoversi in altri campi perché quando si vuole diventare mamme per riuscire a star dietro agli orari di asilinido materna e quant'altro bisogna anche prendere delle decisioni anche magari non volute ma per fare bene la mamma bisogna anche arrabbattarsi in altra maniera e quindi ho aperto una mia attività facendola veramente nascere da zero e l'ho portata a un buonissimo livello poi per altre ragioni i familiari mi sono ritrovata in questo ambito ma con il bagaglio di scuola e di esperienze appunto lavorative anche in questo ambito ho messo del mio e mi sono creata il mio spazio quello che vorrei per allacciarmi al quesito di cui dibattiamo questa sera i ragazzi sono stati esaustivi perché la scuola è loro ed è loro quello il pensiero maggiore di cui dobbiamo far fede è il loro io vorrei soltanto parlare per la mia categoria quindi per la mia categoria vorrei sicuramente un po' più di formazione di competenza e di collaborazione di non pensare veramente perché si pensa tutti anche chi entra nel mondo adesso i più giovani che entrano in questo mondo pensano veramente che ancora il collaboratore sia quello di una volta non è più quello e quindi bisogna allargare la mente e cercare di essere collaborativi e con un minimo di competenza in più perché noi trattiamo con dei ragazzi e dobbiamo dare il nostro supporto sia al corpo docenti che agli studenti secondo me se si fa con passione e con un minimo di competenza sicuramente la scuola sarà migliore perché noi ne facciamo veramente parte lavoriamo per loro perché loro sono il nostro futuro quindi vorrei veramente soltanto nel mio campo un po' più di competenza e che si cominci questo lavoro con passione anche se può essere un lavoro umile ma i lavori umili sono anche quelli che servono tanto vi ringrazio molto buonasera a tutti io sono Maria Arbonio e sono anche io una collaboratrice scolastica che dire io sono pienamente d'accordo con la mia collega per quanto riguarda l'argomento formazione perché ci ritroviamo in un periodo in cui questi ragazzi con cui abbiamo a che fare durante le nostre ore di lavoro per la maggior parte del nostro tempo che trascorriamo al lavoro con dei ragazzi fragili con dei ragazzi insicuri con dei ragazzi che ritrovano ad oggi nella figura del collaboratore un luogo di rifugio dalle proprie insicurezze dalle proprie debolezze e talvolta noi siamo lì dall'altra parte della scrivania a dover dare conforto a dover dare sollievo a dover incitare ad una reazione che vuoi per il fatto che il mondo sta cambiando ed è in continua evoluzione vuoi per il periodo storico drammatico che abbiamo affrontato i ragazzi sono davvero molto fragili ci ritroviamo talvolta di fronte a delle situazioni davvero esasperate che mi rendo conto personalmente in prima persona di non sapere affrontare io in talune situazioni mi rendo conto di non avere le giuste competenze le giuste capacità per cui nella scuola che vorrei vorrei una formazione adeguata in un rapporto educativo nei confronti di questi ragazzi di sapere essere pronta ad affrontare qualsiasi tipo di situazione e soprattutto dare una mano all'oro per riuscire a muoversi in quella che è oggi la scuola per me la scuola sono i ragazzi ma ovviamente per far sì che la macchina funzioni tutti gli ingranaggi devono funzionare per cui credo che la formazione sia necessaria per far sì che un lavoratore si trovi ad eseguire il proprio lavoro in maniera eccellente e quindi per garantire anche come dire un funzionamento migliore buonasera a tutti io sono Vincenzo Gallo e sono anche un collaboratore scolastico del liceo artistico Passoni beh mi leggo all'argomento al punto principale di cui abbiamo parlato fino adesso che hanno parlato le mie colleghe che è la formazione e la scuola che vorrei è una scuola preparata una scuola preparata ad affrontare quelle che sono che abbiamo sentito ragazzi delle problematiche che sono forti io sono da poco nella scuola questo è il mio quarto anno però io sono passato da una vita completamente diversa che è stata quella dell'esercito nell'esercito la prima cosa che ho fatto nei primi mesi è stato proprio essere formato e non messo lì così giusto per mi hanno improntato effettivamente mi hanno fatto capire cos'era la vita militare la stessa cosa che vorrei a scuola in primi dobbiamo essere noi formati per poi dare una mano ai ragazzi come abbiamo detto anche prima i collaboratori adesso hanno un ruolo importantissimo all'interno della scuola i ragazzi hanno bisogno al di fuori della classe che sono comunque in un ambiente dove devono stare seduti ascoltare il professore studiare noi li vediamo dal punto di vista esterno li vediamo nella semplice ricreazione quindi loro hanno proprio bisogno di una persona come diceva la collega preparata per affrontare magari le loro problematiche che all'interno della classe è difficile comunque esprimere nulla spero vivamente che ci sia che da parte del sistema scolastico questa cosa possa cambiare il prima possibile buonasera io sono Emilia Scalamandre sono qui oggi per rappresentare appunto la mia categoria sono onorata di farlo e di dare voce appunto a questa categoria molte volte bistrattata bistrattata perché manca l'informazione principalmente informazione anche della popolazione perché ad oggi ancora non si è capito che dal collaboratore si richiede anche si richiedono altre competenze delle nuove skills che comunque sono necessarie per affrontare quella che è la realtà di oggi la società di oggi a tal proposito volevo dire appunto che la parola chiave se mi posso permettere di suggerire una parola chiave è interscambio quello che manca tra noi anche nel mondo del lavoro tra noi tra il personale comunque scolastico infatti devo dire che ad oggi ancora si assiste a un conflitto generazionale anche perché noi giovani purtroppo ancora siamo un po' guardati nella maniera sbagliata da parte del vecchio sistema scolastico ecco io invece proporrei nella scuola che vorrei ecco è appunto un interscambio che sia socio psicosociale anche tra tutti perché noi giovani possiamo imparare tanto dalle generazioni passate che comunque hanno un bagaglio importantissimo ma anche loro potrebbero iniziare ad abbracciare le nostre idee innovative e comunque quello che noi possiamo portare con la nostra esperienza perché per forza di cose abbiamo delle esperienze scolastiche di vita storiche completamente diverse e l'uno dall'altro può imparare molto e a tal proposito volevo anche spezzare una piccola lancia a favore della nostra dirigente che è stato illuminante per me personalmente arrivare al Passoni e scoprire che comunque la dirigente che è la massima carica istituzionale a scuola si preoccupava di dare il benvenuto a noi tramite una lettera insomma e di verificare personalmente di colloquiare con noi e comunque scoprire quelle che sono le caratteristiche quello che ognuno di noi può dare caratterialmente professionalmente alla scuola e quindi individuare in ogni persona comunque un punto di riferimento per determinate questioni insomma che si possono verificare durante l'anno scolastico grazie allora nella nostra scuola abbiamo questo tipo di organizzazione giusto per spiegare perché se no magari non riusciamo a capire quest'ultima sottolineatura Betti ad esempio coordina i collaboratori scolastici mentre Vincenzo ed Emilia fanno da supporto alla didattica cosa vuol dire che sono impegnati in funzioni prettamente amministrative questo per far sì che crescano professionalmente ma migliorare proprio l'organizzazione scolastica è faticoso ci scontriamo come ci siamo detti con tante resistenze anche interne però noi ci proviamo io ho visto che anche Maria che appartiene al liceo Berti e che ho conosciuto la scorsa settimana sottolineano l'importanza di condividere di essere compartecipi dell'organizzazione e quindi è molto bello e ringrazio anche la dirigente che è qui con noi oggi e avremo poi modo durante il dibattito di tirare le fila proprio perché la collaborazione anche tra scuole tra vari istituti non solo del territorio è molto molto importante quindi quello che ci avete detto oggi è sicuramente uno spunto di riflessione notevole e la parola la formazione insomma rimbalza è vero grazie grazie ancora andiamo avanti adesso abbiamo come dire un ospite speciale perché arriva da fuori regione quindi lo ringraziamo per aver voluto essere qui e a proposito di modelli invito Maurizio Parodi che ci parlerà del progetto studenti in cattedra Maurizio Parodi già dirigente scolastico e formatore grazie intanto ringrazio dell'invito sono fui dirigente scolastico nel senso che ho praticato questo strano mestiere fino a due anni fa un mestiere ingrato qualche tempo fa un insegnante peraltro una cara persona che mi ha incontrato sul portone di casa mi ha detto sai Maurizio che l'unico dirigente buono è quello morto ecco per dire il tipo di empatia che si può esprimere non interpretare anche in modo nel più edificante possibile un ruolo che davvero è di estrema complessità dunque giusto per capire quali sono le premesse dalle quali può muovere insomma la mia proposta mi occupo sì di formazione e di ricerca ormai da moltissimo tempo non ancora rassegnato all'impermeabilità degli apparati educativi che peraltro sono assolutamente ostici ho scritto un po' di libri ne cito giusto un paio il primo è basta compiti non è così che si impara il più recente che caldeggio perché non guadagnerò una lira dall'acquisto di questo libro che la scuola è sfinita ricostituenti pedagogici i diritti d'autore sono devoluti per intero alla biblioteca per la non violenza questo diciamo sono alcuni riferimenti paradigmatici io ho cercato di impegnarmi il più possibile per rendere la scuola un luogo accogliente non necessariamente in senso fisico noi abbiamo strutture che sono ai limiti dell'agibilità che dovrebbero essere ben più confortevoli un'accoglienza intesa soprattutto come valorizzazione valorizzazione della persona valorizzazione delle diversità possibilità di esprimerle e di interagire più proficuamente con le altrui diversità noi purtroppo viviamo in una scuola che io conosco insegnanti straordinari che anche in condizioni di estrema difficoltà riescono a fare cose gregge semplifico e generalizzo per comodità di esposizione però spesso la scuola tende a risolvere diciamo le differenze in livellanti uniformità privilegiando una trasmissione del sapere più o meno verbosa e amorbante che si traduce nella somministrazione di saperi precotti e surgelati che spesso suscitano il rigetto come dire non di rado irreparabile da parte di studenti sempre più inappetenti sarebbe bello che la scuola fosse un luogo di gioia di gioia perché è vero che l'avventura è vero che io credo profondamente che imparare possa essere persino eccitante Daniel Pennac parla di sensualità a proposito della lettura la lettura uno degli esiti più nefasti di certa forma di scolarizzazione diciamo di quelli che sono i più esaltanti le più esaltanti espressioni dell'intelletto umano ad esempio la scrittura e la lettura ecco uno degli effetti più nefandi è quello ad esempio di rendere la lettura un compito più o meno sgradito di trasformare il libro in un corpo contundente nella materializzazione della noia se noi riusciamo a rendere il libro come diceva poi ci trova Umberto Eco come dire uno strumento di tortura probabilmente stiamo sbagliando qualcosa qualcosa di fondamentale quando chiese a Umberto Eco di definire un classico di letteratura rispose niente di più facile è un libro che tutti odiano perché sono stati costretti a studiarlo a scuola probabilmente i Promessi Sposi sono tra i libri è uno dei libri più detestati e non solo dagli studenti più lavativi nel momento in cui io ho lavorato soprattutto negli istituti comprensivi quindi ho avuto a che fare anche con bambini molto piccoli e quando capita di toccare con mano la sofferenza di bambini ma anche di ragazzi bambini bambine ragazzi ragazze che esprimono anche dolorosamente la propria difficoltà ad adattarsi ad un sistema che non sembra pensato per far fronte ai loro bisogni di crescita di sviluppo si ha la sensazione davvero di fallire l'obiettivo fondamentale se la scuola procura sofferenza ha fallito è una scuola che ha fallito se si soffre a causa della scuola se si vomita il proprio disgusto per la scuola come capita a alcuni bambini che hanno problemi insomma a sostenere ritmi spesso non propriamente fisiologici di esposizione a sollecitazioni didattiche non sempre così ben commisurate rispetto a quelle che sono le loro necessità e le loro possibilità di apprendimento ecco se abbiamo di fronte bambini che vivono o ragazzi che vivono questa situazione significa che stiamo sbagliando qualcosa di fondamentale possiamo continuare a credere che la scuola sia giusta e che siano sbagliati i ragazzi ma è un errore fondamentale ed è sbagliato pensare che gli studenti siano al servizio della scuola è la scuola che deve essere al servizio dei ragazzi quindi è imperativo per tutti noi cercare di ripensare proprio come dire i paradigmi io li ho chiamati postulati occulti dalla didattica reale cioè quei convincimenti profondamente radicati spesso inconsapevoli talvolta inconfessabili che sembrano una cosa strata che invece sono quelle abitudini di pensiero che informano poi le scelte anche quotidiane quelle apparentemente più prosaiche se ad esempio noi pensiamo che si insegni a scuola perché poi si debba imparare a casa ecco probabilmente impostiamo la didattica in un certo modo è una cosa che suscitava la come dire lo stupore anche di Rita Levi moltaccini cioè è strana la scuola italiana perché la scuola si insegna e si impara a casa ed è vero è una cosa abbastanza strana e su questo tornerò a proposito della proposta didattica che potrò soltanto enunciare perché è di una certa complessità io credo che la scuola dovrebbe essere un luogo appunto non di noia ma di gioia dovrebbe essere anche un luogo nel quale si possa fare esercizio di responsabilità quando i nostri studenti possono interpretare ruoli autenticamente facoltosi quali sono gli spazi di negoziazione reale rispetto anche all'organizzazione del lavoro e della vita scolastica mai noi costenizziamo i nostri studenti in una condizione di minorità pretendendo che poi usciti dalla scuola si mostrino adulti responsabili affidabili e quant'altro c'è un esempio che può sembrare impertinente insomma anche inelegante che credo dia la misura di questa di questa strana aberrazione noi abbiamo adulti cioè donne uomini maggiorenni quindi che hanno superato il diciottesimo anno di età che sono anche penalmente responsabili delle loro azioni che per poter andare a fare alle app devono chiedere l'autorizzazione a un adulto è normale questo non si tratta di perfidia da parte dei docenti ma pensate a quanto è può essere abberrante un sistema nel quale un uomo e una donna devono essere autorizzati ad andare in bagno c'è qualcosa che non va e su questo noi possiamo intervenire ovviamente senza rivoluzionare il sistema perché non è nelle nostre come dire facoltà però cercando di valorizzare il più possibile l'interazione tra i pari e l'assunzione di responsabilità nei confronti dei propri compagni degli studenti dei docenti dell'organizzazione è importante che si arrivi alla realizzazione del monito così icasticamente montessoriano aiutami a fare da solo gli studenti non possono continuare ad essere meri esecutori di istruzioni che vengono impartite da docenti delle quali spesso non capiscono neanche il senso io ho provato a chiedere a degli studenti di classi diverse andando in classe cosa state facendo e me lo dicono provate a chiedere agli studenti di una qualsiasi classe perché lo state facendo la risposta normalmente perché dobbiamo superare la verifica abbiamo l'esame perché la risposta più frequente è chiedilo al professore chiedilo all'insegnante cioè è normale per i nostri studenti non sapere le ragioni per cui fanno quello che fanno le cose si fanno per obbligo oppure per ottenere il voto per sopravvivere alla scuola per uscire il prima possibile perché per molti davvero è un supplizio dal quale rispetto a quale ci si deve attrezzare per uscire nel più possibile indenni generalizzo ripeto per comodità di esposizione perché conosco insegnanti straordinari che ripeto fanno cose strepitose anche in condizioni di estremo disagio una delle cose che mi ha sempre colpito ed è il motivo per cui ho promosso la campagna basta compiti per l'abolizione dei compiti a casa nel primo ciclo di istruzione è anche questo strano paradosso lo strano paradosso che menzionavo gli insegnanti adesso penso soprattutto al primo ciclo di istruzione gli insegnanti quasi tutti gli insegnanti italiani danno i compiti a casa non c'è alcun obbligo a riguardo anzi le uniche volte in cui il ministero si è espresso a riguardo è stato per raccomandare agli insegnanti di non assegnare insegnanti da secondare e secondo grado di non assegnare i compiti a casa quindi è una scelta o meglio una non scelta perché di fatto è un retaggio atavico sembra che non possa darsi una scuola senza compiti quindi non troveremo mai in un documento ufficiale su un registro la motivazione per la quale si assegnano i compiti a casa è un dato di fatto che poggia su questo principio che a scuola si insegna e si impara a casa a scuola si insegna e si impara a imparare a casa ora noi viviamo in un'epoca si dice di rapida usura e precoce obsolescenza dell'informazione utile per cui è importante imparare ma soprattutto è importante imparare e imparare e questo quando avviene salvo le lodevoli eccezioni di cui dicevo poc'anzi quando avviene a scuola che dovrebbe essere la palestra dove ci sono i professionisti dell'istruzione le competenze metacognitive cioè i metodi di studio vengono acquisiti grazie a un'attività che si svolge laddove cioè in una situazione psicologicamente didatticamente protetta no si demanda allo studente alla famiglia dello studente alle risorse private delle quali eventualmente la famiglia dello studente possa disporre noi abbiamo un mercato delle lezioni private che è abbastanza indecente tra l'altro è in nero quindi scandaloso anche non solo dal punto di vista come dire pedagogico didattico che è la conferma inequivoca che la scuola non fa la cosa più importante cioè insegnare e imparare gli studenti si ritrovano soli nel momento in cui hanno maggior bisogno dell'insegnante cioè l'insegnante non c'è nel momento in cui ci sarebbe maggior bisogno della sua presenza stranissimo questo paradosso e forse spiega anche i livelli di mortalità scolastica di dispersione che purtroppo vantiamo tra virgolette che sono indegni di un paese civile io non credo che gli studenti abbandonino spontaneamente la scuola io credo che siano respinti dalla scuola e una scuola che respinge boccia se stessa e purtroppo gli studenti che la scuola respinge sono quelli che della scuola avrebbero maggior bisogno quelli che nella scuola potrebbero trovare la sola opportunità di affrancamento e di emancipazione e che purtroppo la scuola pone margini o addirittura respinge la proposta che io ho fatto tecnicamente parlando il nome di questo metodo che ho inventato pensando in modo particolare alla secondaria e al secondo grado si chiama studenti in cattedra e funziona proprio secondo la logica opposta cioè mettergli studenti nella condizione di imparare in classe assieme ai loro insegnanti ad imparare così da disporre di una strumentazione metacognitiva che è anche una rilevanza strategica dal punto di vista sociale noi viviamo in un'epoca di fluidificazione delle competenze ma non solo di precarizzazione la necessità di riconvertire i propri repertori cognitivi anche in ambito professionale ormai è un'esigenza quindi saper gestire la risorsa apprendimento è la cosa più importante e allora ho fatto ho messo a punto questo sistema sarò velocissimo che prevede intanto il cui scopo è quello di insegnare agli studenti a imparare ma nel momento in cui si procede nel percorso di formazione degli insegnanti in realtà quelli che imparano prima di ogni altro sono gli insegnanti nel senso che gli insegnanti imparano a insegnare strano paradosso io sono convinto che gli studenti cominceranno a imparare quando gli insegnanti smetteranno di insegnare quando gli insegnanti impareranno a non insegnare ma non lo dico io lo diceva Socrate all'epoca della maieutica lo hanno ribadito Montessori Frenei Mario Lodi insomma tantissimi maestri pedagogisti quindi l'idea dicevo è quello di creare le condizioni perché si possa imparare a imparare a scuola come? vi faccio un esempio molto molto rapido e temo ben poco eloquente ma i tempi sono quelli che sono intanto gli insegnanti devono essere impegnati la prima cosa che richiedo in una selezione drastica rigorosissima dei contenuti disciplinari spesso gli insegnanti si rapportano diciamo al programma che peraltro non esiste più ben sappiamo che con l'assegnazione dell'autonomia in realtà i programmi sono diciamo per gran parte responsabilità del collegio degli organi tecnici o del collegio dei docenti del singolo insegnante quindi quando si sentono gli insegnanti non riescono mai a finire il programma in realtà i programmi il programma a cui ci si crocifigge e si impiccano spesso gli studenti più insomma più fragili è quello dettato dagli innumerevoli libri dall'indice degli innumerevoli libri di testo che liberamente adottano i docenti nella scuola primaria si può non adottare libri di testo nella scuola secondaria di primo grado si potrebbe procedere con l'autoproduzione quindi una selezione drastica dei contenuti la vita non è eterna il tempo che hai a disposizione per insegnare i contenuti della tua disciplina in quell'anno è prestabilito quindi devi fare il calcolo delle ore che puoi dedicare ad affrontare i contenuti essenziali della tua disciplina e questo è il primo passaggio secondo passaggio si allestiscono i materiali in modo da prevedere un intervento in classe che può essere modulato come dire nel modo più conveniente più confacente all'insegnante che non superi dieci minuti la prima sessione dell'unità di lavoro di questo metodo prevede dieci minuti non più fino a dieci minuti di input che naturalmente ha da essere il più eloquente suggestivo stimolante possibile può essere anche la lezione frontale ma non può essere sempre solo la lezione frontale in quei dieci minuti gli insegnanti gli studenti della classe hanno la possibilità di individuare eventuali criticità nel senso di cose che non si capiscono e individuare diciamo i passaggi essenziali rispetto ai contenuti che sono stati proposti si fa un brevissimo giro altri dieci minuti nei quali ci si confronta soprattutto sulla mancata compressione eventualmente che determini e l'insegnante è l'ultimo ad intervenire perché dovrebbe valorizzare il proprio ruolo soprattutto in termini di regia educativa quindi senza essere evitando di essere la prima donna del setting quindi un breve giro per eventuali chiarimenti e c'è l'insegnante che non è che abdichi al proprio ruolo lo interpreta in modo un po' più evoluto dopodiché in coppia o a gruppi di tre si come dire si selezionano i contenuti che sono stati individuati rispetto all'unità di lavoro che è stata presentata sto parlando siamo a 30 minuti circa il tempo restante dell'ora nella quale si svolge si sviluppa la prima sessione dell'unità di lavoro viene dedicata alla creazione diciamo della sintesi condivisa che è il momento più interessante anche dal punto di vista cognitivo di maggior pregio perché significa non solo individuare i contenuti ma creare rapporti logici tra i contenuti individuati esprimerli in una forma sintetica ma eloquente tale da permettere poi eventualmente il recupero laddove si rendesse necessario un'esposizione o un ripasso diciamo ripasso a fine anno si arriva alla conclusione con questa sintesi condivisa che viene validata dal docente perché potrebbe essere carente potrebbe essere necessario rettificare integrare e poi si assegna ad una coppia di studenti il compito di esporlo nella sessione successiva che non sarà immediatamente successiva diciamo a distanza di uno o due giorni quando ci si ritroverà con l'insegnante a discutere del tema che è stato affrontato ve l'ho detto in modo veramente tristissimo perché fa orrore a me sentendolo a raccontare così pare che funzioni molto io ricordo quando ho somministrato i questionari un ragazzo che ebbe ebbe a dire io non avrei immaginato non avrei mai immaginato di essere capace di fare così tanto e così bene quindi con una formulazione diciamo con una metodo anche apparentemente così banale perché non introduce elementi di innovazione insomma strutturale non 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 presume interventi in ingegneria istituzionale riforme epocali insomma con i provvedimenti salvifici troppo spesso invocati e che di solito non producono effetti positivi però insomma il riscontro è stato estremamente positivo e rassicurante tant'è che proseguiremo con la abbiamo fatto una presperimentazione proseguiremo con la sperimentazione vera e propria concludo per capire che ho saurito il tempo a mia disposizione io credo che qualsiasi iniziativa che superi la logica della trasmissione pedestre di contenuti più o meno insignificanti a studenti che ripeto sempre più inappetenti e riluttanti sia benedetto noi continuiamo a somministrare questi saperi soprattutto in termini di nozioni perché la nostra è ancora una scuola tragicamente nozionistica a ritmi forsennati come si fa con gli animali allevati in batteria in regime di alimentazione forzata finisco con questa citazione sono profondamente convinto che come ebbe a dire Alessandro Bergonzoni essere obbligati a ingoiare non significa saper digerire grazie grazie ok grazie Maurizio per i tanti spunti grazie mille bene allora adesso continuiamo con l'esperienza del primo ciclo e quindi chiamiamo Marisol Zago dell'ICI Nasi salutiamo Camilla che deve andare a lavorare grazie Camilla bene insieme a insieme a Daniele De Giorgi dell'Università di Torino ok grazie sì oppure noi ci spostiamo aspetta io mi sposto qui ok Daniele qui che ci parleranno di questa bella esperienza che collega la matematica all'arte sembra quasi una cosa impossibile eppure ci racconteranno questa esperienza vi chiediamo di restare nei tempi ovviamente grazie sì siamo molto felici di condividere con voi questa bellissima esperienza e vorremmo iniziare con il video prodotto in classe proprio con i bambini protagonisti di questo meraviglioso progetto ti aspettavi di svolgere un'attività di matematica in un museo d'arte contemporanea? no perché la matematica spesso si fa in classe con i quaderni e gli esercizi e poi non mi aspettavo che la matematica c'era anche in un museo di arte contemporanea ti è piaciuto indossare gli occhiali del matematico? sì perché quando li ho provati a indossare nel giardino per esempio ho visto il tombino un quadrato l'albero un cilindro e i tavoli dei cerchi e poi ho provato a indossarli in musei in altre gite dove siamo andati e ho visto altre forme geometriche pensi di aver imparato più matematica o più arte? per me più arte perché ci sono stati molti quadri molte sculture molte opere poi ce n'è stata una molto bella di un pittore che viveva sia a Torino che in Islanda e in quelle immagini che ho fatto vedere io ne avevo viste già parecchie che avevo visto in natura no secondo me più matematica perché abbiamo fatto la tasse cioè perché abbiamo fatto la tassellazione e abbiamo imparato a gestire i triangoli quale opera d'arte ti ha colpito maggiormente? mi è riuscito il copo di questo letto perché mi sembrava una casa e quindi sull'autobus mi hanno dato carta e penna e ho iniziato a fare tanta pratica e così non ho più disegnato le case a forma di quadrato ma a forma di tubo e ci sembravano di più la realtà attraverso l'arte e la matematica sei riuscita a comunicare meglio con i tuoi compagni? sì perché non siamo stati seduti ai banchi ma abbiamo collaborato in squadra in un museo anche se a volte non eravamo tutti con le stesse idee poi siamo riusciti a trovare una cosa che andasse bene a tutti matematica e arte che cosa hanno in comune? in tutte le lingue sono il cuore in arte c'è tantissima matematica con arte puoi esprimere tutte le tue emozioni allora questo è un progetto molto innovativo avete sentito parlare di matematica informale effettivamente quando si parla di matematica noi pensiamo subito a un quaderno a quadretti con le matite il reghello e tanti esercizi da svolgere per imparare le regole con questo invece nuovo tipo di approccio che è un approccio innovativo proposto appunto dall'università e soprattutto dal dipartimento di matematica che qui è rappresentato dal professor De Giorgi si vuole invece introdurre una matematica informale che si basa su dei principi che sono un po' quelli che chiedono i giovani che hanno chiesto prima i giovani innanzitutto il fatto di fare anche scuola al di fuori del contesto scolastico perché non sembra ma l'approccio comunque extrascolastico ha più il sapore della gita e quindi quando i ragazzi vengono motivati imparano sicuramente anche meglio un secondo tipo di approccio che ho sentito anche dai ragazzi che viene chiesto è quello laboratoriale infatti la matematica informale si pone proprio l'obiettivo di manipolare degli oggetti di introdurre nell'apprendimento degli artefatti delle opere e in terzo luogo mi piace anche pensare alla matematica informale poi mi dici tu Daniele se sbaglio come non un sapere univoco ma un sapere che si va ad intrecciare ad altri saperi quindi si può fare anche guardando questa sala matematica anche qui al circolo dei lettori si potrebbe pensare a una unità qui al circolo dei lettori in un museo di scienze in un museo d'arte in un parco pubblico in una piazza questa è la matematica informale ed è questo che l'approccio che l'università ha proposto a noi docenti di scuola primaria con alcune colleghe abbiamo pensato a questo progetto che si chiama Form Art abbiamo elaborato questa attività al museo d'arte contemporanea del castello di Rivoli e abbiamo voluto sviluppare la figura del quadrato come figura piana e del cubo come figura solida abbiamo preso come riferimento alcune opere d'arte che erano presenti all'interno del castello quindi il logo di Armando Tessa il cubo di pistoletto come ha detto la bambina e il tutto di Alighiero Boetti queste sono state le opere principali poi con il professore abbiamo invece sperimentato in classe un'attività di tassellazione dove i bambini hanno indossato gli occhiali del matematico hanno quindi cominciato come avete sentito dal video a vedere intorno a sé tutti gli oggetti che li circondavano ma con gli occhi del matematico quindi tutto prendeva delle forme diverse a quel punto dopo aver consolidato alcune di queste competenze siamo andati al castello di Rivoli e abbiamo effettuato un'attività di tassellazione siamo andati nella sala dove c'è se vi ricordate quel cavallo il famoso cavallo esatto il pavimento di Yuvar nella sala di Bacco e Arianna e i ragazzi hanno dovuto ricoprire con delle figure geometriche dei poligoni regolari una parte del piano che cosa hanno scoperto alla fine di questo laboratorio che sembra un'attività molto semplice hanno scoperto che in realtà le uniche tre figure che potevano utilizzare per riempire il piano regolarmente erano solo il quadrato l'esagono e il triangolo equilatero perché gli angoli sono divisori di 360 gradi una competenza altissima per dei bambini di terza elementare però vi assicuro che è stata una competenza raggiunta a squadre con il sorriso con la gioia da tutti quanti i bambini quindi è stato anche un progetto fortemente inclusivo perché anche tra l'altro i bambini che erano appena arrivati dall'Ucraina in quel momento perché è stato sperimentato lo scorso anno attraverso proprio un approccio di questo tipo e attraverso l'arte e la matematica che come dice il bimbo ucraino hanno un linguaggio universale sono stati appresi appieno mi sento solo di concludere dicendo un'ultima cosa che secondo me è importante come insegnante che un tipo di approccio di questo tipo non richiede una valutazione formale quindi anche questo è molto importante in quest'ottica perché non è stato necessario valutare i ragazzi in quanto gli obiettivi era proprio palese che fossero stati raggiunti anzi sono diventati diciamo il prerequisito di obiettivi successivi questa è la nostra esperienza allora io aggiungo giusto due cose perché la maestra Marisol ha già detto tutto diciamo che la base teorica che sostiene un po' tutto questo progetto è la visione dell'apprendimento in forma di matematica come è stato teorizzato da Nemirovsky Kelton e Civil e poggia su tre punti cardine che abbiamo notato anche nella classe che ha partecipato ovvero la totale libertà da parte degli studenti a partecipare alle attività non c'è nessun obbligo l'assenza appunto di una valutazione formale e la stessa maestra ha riflettuto molto su questo tema non è una valutazione adatta a questo tipo di apprendimento e infine la fluidità delle discipline che è un discorso un po' differente dall'interdisciplinarità o dalla transdisciplinarità va ancora oltre perché non vogliamo dare l'idea che stiamo facendo matematica che stiamo facendo arte o che stiamo facendo italiano noi stiamo apprendendo in quel momento e l'altro punto importante è emerso dalle riflessioni proprio delle due maestre anche la maestra Emilia della classe riguarda il fatto che non fosse soltanto una gita sì abbiamo vissuto l'esperienza al museo con il laboratorio con la visita del museo stesso ma c'è stata una programmazione profonda con le maestre della classe abbiamo inserito questa esperienza all'interno del curriculum della classe con un'attività che precede l'esperienza al museo un'attività successiva che formalizza l'apprendimento avvenuto al museo lo rende più profondo lo consolida e abbiamo fatto anche degli altri incontri successivamente sempre in classe dove richiamavamo l'esperienza e i bambini la richiamavano con facilità e con l'esperienza richiamavano anche l'apprendimento legato ad essa quindi questo è un aspetto che ci ha colpito molto oltre a tutti i saperi informali che sono emersi dagli studenti stessi che sono stati in grado di rileggere alcune esperienze di vissuto passato come alcuni viaggi con le loro famiglie alla luce dell'apprendimento svolto all'interno o comunque acquisito all'interno dell'esperienza del museo e anche oltre ma anche come abbiamo sentito una bambina che ha riletto le sue capacità di disegno e ha iniziato a disegnare spontaneamente le case tridimensionalmente perché a detta sua rispecchiavano di più la realtà e nessuno le ha detto nulla ha avuto un confronto con quest'arte contemporanea con i cubi con la tridimensionalità ha detto caspita ma allora forse le case che disegno non sono così corrette provo a farle diversamente ecco quindi concludo semplicemente con questa riflessione vi ringrazio per l'attenzione ringrazio anche la regia grazie grazie a Marisol e a Daniele che ci hanno portato questa bella esperienza grazie veramente adesso volevi aggiungere qualcosa Fabrizio? diciamo che rimaniamo sul tema dell'inclusione abbiamo parlato di arte e inclusione che sarà tra l'altro l'argomento del prossimo appuntamento di dicembre della scuola che vorrei stiamo sul focus dell'inclusione perché il prossimo ospite Alberta Mazzone è la responsabile scuola della CPD la CPD è la consulta per le persone in difficoltà che da 35 anni si occupa del mondo della stabilità dell'inclusione delle pari opportunità e poi ultimamente si è spostata anche sul versante delle fragilità cognitive e delle nuove povertà e questo anche per dire che fra poco ci avviciniamo a una data molto importante che è quella del 3 dicembre che è la giornata internazionale delle persone con disabilità e ogni anno la CPD organizza una serie di eventi per sottolineare l'importanza di questa ricorrenza per cui il 2 dicembre ci sarà un convegno alle OGR sull'agenda della disabilità il 3 un concerto a Santa Pelagia il 5 un seminario su management e disabilità e poi il 12 una giornata dedicata alle scuole che tra l'altro è un evento che ogni anno coinvolge quasi 3.000 alunni e studenti quindi una cosa enorme per quanto riguarda una città come Torino e a cui tra l'altro tutti quanti siete invitati come appunto scuole e alunni quindi chiamiamo direttamente Alberta saluto anche Giovanni Ferrero il direttore della CPT che è qui presente allora buongiorno a tutti intanto tantissimi input avrei 3.000 cose da dire ma vedrete sono una che parla tanto cercherò di stare sul tema ma sto vivendo tutto quello che state dicendo da ex alunna insegnante mamma di due figli con età diverse 8 anni di differenza quindi miliardi di spunti di cose che vorrei condividere con voi ma parlando appunto del mio ruolo come responsabili del mondo scuola all'interno della nostra realtà 12 dicembre siete tutti assolutamente invitati chi ancora non si è iscritto e c'è ancora spazio per tutti tra l'altro dalla scuola da tutti gli ordini gradi quindi dalla scuola di infanzia alla secondaria di secondo grado quindi tutti i ragazzi che hanno parlato prima non potranno che fare questa uscita didattica ma l'insegna della gioia dell'inclusione della diversità e della disabilità ma alla fine come diciamo sempre in CPD la disabilità non è un mondo a parte ma è parte del mondo quindi noi io vi invito a partecipare a questa mattinata che sarà in diretta nazionale tra l'altro quindi accoglieremo oltre 30.000 studenti che arrivano che ci ascolteranno e ci guarderanno in tutta Italia ho l'onore di presentare ormai da tre anni questo evento e se posso dire una piccola cosa io credo che la differenza nella scuola la faccia la passione la passione con cui gli insegnanti portano ai ragazzi qualsiasi tipo di materia dalla più pesante alla più all'educazione motoria certo che non siamo tutti i giorni tutti pieni di abbiamo tutti la nostra vita dietro con le difficoltà insomma non lo devo dire sia i ragazzi che noi adulti ma sicuramente se viviamo con la passione quello che facciamo facciamo la differenza noi grazie ecco dico questo perché presento questo evento con una grande passione penso che lo state notando che qua sono proprio emozionata perché perché vedo 3.000 studenti 3.000 bambini ripeto di ogni età vivere delle emozioni allo stato puro noi partiamo alle 10 e finiamo alle 12.30 i cancelli sono aperti dalle 8.30 e vi facciamo ballare abbiamo creato la cipidillo dance che tra l'altro abbiamo già mandato nelle scuole per farvele imparare il tema quindi la canzone ha tutto un suo perché già solo quella insegna qualcosa qualcosa di inclusivo ma dopodiché saranno una mattinata passata a guardare persone con disabilità di qualsiasi livello quindi abbiamo di visualità motori intellettive sordi ciechi ma non noterete mai la differenza li mettiamo tutti allo stesso livello tramite lo sport e veramente vedere io dico sempre uno sport per tutti che mi emoziona tantissimo il city volley che non sapevo neanche all'inizio cosa fosse invece di giocare a palla a volo tutti con una rete bassa tutti per terra giocare quindi lo possono fare veramente tutti ed è fantastico vedere come ragazzi amputati si tolgono scusate è crudo ma è così si tolgono le protesi le appoggiano vicino al campo si mettono per terra e giocano a pallavolo da seduti insieme a bambini di tutte le età a persone con disabilità intellettive cioè lo sport è inclusione lo sport è passione è quello che fa la differenza per molti ragazzi che subiscono degli incidenti o che magari hanno delle disabilità dalla nascita ma grazie allo sport che per tutti davvero si riesce ad andare oltre quindi io vi invito veramente a passare queste due ore e mezza con noi è ovviamente gratuito offriamo la merenda a tutti i bambini offriamo un bus per venire a prendere chi non ha possibilità di arrivare dalla scuola al Palaruffini che sarà il luogo dell'evento e viceversa ovviamente insomma che dire io vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di raccontarlo e vi aspetto tutti il 12 dicembre ci accenni la canzone le ho chiesto le ho chiesto di accennarci due note della canzone adesso con l'emozione che ho la canzone un po' fuori allora vi racconto la storia della canzone così capite meglio da dove arriva la prima versione me l'ero addirittura inventata dopodiché all'interno della CPD abbiamo il servizio civile visto che ci piace valorizzare le persone non sono tutti uguali i ragazzi non sono tutti uguali io sono sensibile anche a questo perché un figlio che fa la seconda superiore con depressione e ansia sociale e so quanto la scuola può fare la differenza quanto gli insegnanti e i compagni possono fare la differenza per ragazzi in questo scusate sono proprio e questo ragazzo era un rapper ma giovane giovanissimo aveva cose venturanti direttore mi corregge è un rapper 21 anni mi sembra che aveva giusto Fabri? si appena maggiorenne e quindi abbiamo detto caspita ma facci tu rinnova perché i giovani hanno tante belle idee da dare e le loro passioni diventano poi qualcosa che può diventare un lavoro e quindi abbiamo detto riscrivici il testo della canzone quindi lui ci ha riscritto il testo e lo vedrete il 12 dicembre al Pallarufini perché canterà in diretta per voi mentre il liceo coreutico Germana Erba ha fatto la coreografia per la nostra cp di Lodense quindi io non ve la voglio svelare perché sono emozionata e di realità dovrei pensarci un attimino di più ma vi prometto che la canteremo insieme e la balleremo il 12 dicembre scusate se grazie grazie ad Alberta Mazzone quindi l'appuntamento per il 12 dicembre adesso l'abbiamo annunciato prima questo oggetto misterioso perché tu non hai voluto svelare esattamente chi siano però la parola va ai DSGA e quindi invitiamo Natalia Pugliese e Patrizia Bisbano Allora Natalia e Maria le sediamo ok qui Ginica quindi sale da lì va bene ok allora inizia Natalia grazie innanzitutto di essere qui grazie a voi per averci invitata allora noi siamo le due DSGA cosa sono le DSGA direttore dei servizi generali e amministrativi cosa significa perché diciamo che siamo abbastanza sconosciute nel al di fuori della scuola nella scuola più o meno ci conoscono siamo quelle che si occupano della parte amministrativa della scuola quindi del bilancio teniamo i cordoni della borsa per cui sappiamo se si può spendere se non si può spendere le entrate le uscite la gestione del personale ATA quindi collaboratori scolastici assistenti amministrativi e quindi tutte le pratiche che sono praticamente le pratiche amministrative che riguardano tutto il personale della scuola ecco visto che abbiamo proprio solo due minuti per fare questo intervento io volevo focalizzare focalizzarmi su una parola la scuola che vorrei ci ho pensato competenza ecco la mia parola è questa competenza questo perché perché il lavoro nelle segreterie è cambiato enormemente quando io sono entrata nella scuola diciamo il mondo della scuola ho potuto anche da così imparare dalle colleghe che ti insegnavano ma perché il lavoro era diverso con il decentramento amministrativo molte funzioni sono che prima erano in capo all'Inps al provveditorato eccetera sono praticamente state affidate alle scuole e le scuole si sono trovate oltre ad avere un carico enorme di lavoro anche un'incompetenza a svolgere quindi c'è una costante formazione una costante formazione per capire che cosa bisogna fare e il problema che io vedo che è questo della competenza lo vedo soprattutto a inizio anno non so se la collega lo ha verificato comunque non è più possibile dire ecco non è più possibile che la scuola vada a fortuna nel senso ma speriamo che in quella sagratoria sappiano fare le pratiche non è proprio più possibile così e a settembre soprattutto nel mese di settembre quando il momento è molto delicato per le scuole ci si trova con nomine da fare personale che manca e la scuola deve partire è un motore se non parte il mese di settembre è un bel problema se non si hanno le competenze perché bisogna nominare i supplenti bisogna sapere come convocare chi chiamare ecco io quello che così mi focalizzerei sulla scuola che vorrei è questo è più competenza e poi penso che è vero come diceva Totò che nessuno nasce imparato che tutti hanno il diritto di entrare nella scuola e di imparare io in segreteria ho tre collaboratrici scolastiche che hanno scelto di fare il passaggio in amministrazione io le sto appoggiando in tutto gli sto passando tutte le formazioni che è possibile per cui è vero che nessuno nasce imparato però il problema è che in quel mese lì si rischia di fare il supplente al supplente e si crea veramente confusione quindi è questa la parola competenza grazie Natalia allora io sono Patrizia Bisbano sono stata invitata a portare la mia esperienza io arrivo dal mondo del privato anzi prima dalla professione perché sono laureata in giurisprudenza ho fatto per diversi anni ho lavorato negli studi legali poi ho deciso di entrare in azienda e poi così per caso mi sono avvicinata a questo concorso del DSGA devo ammettere che anche io quando ho partecipato a questo concorso non avevo così ben chiaro che cosa dovesse fare il direttore dei servizi generali amministrativi sapevo che doveva avere determinate competenze questo perché il concorso lo richiedeva richiedeva quindi una preparazione giuridica erano materie d'esame il diritto civile il diritto amministrativo il diritto penale il diritto del lavoro la contabilità pubblica e quindi ho detto perché non provarci avendo io già una formazione nel campo passato il concorso mi sono trovata a lavorare nelle segreterie di due scuole una in un piccolo paese savigliano e poi nella grande metropoli Torino qui a Alberti quindi io sono la DSGA di Alberti e quello che ho potuto vedere di diverso dal mondo privato è che la scuola ha dei limiti nel senso che per quanto riguarda le figure apicali il dirigente e il DSGA sono delle figure che devono in ogni caso per superare un concorso avere una preparazione teorica che poi devono comunque sviluppare però le segreterie mi sono accorta che non hanno questa preparazione nel senso che sicuramente l'esperienza aiuta a svolgere tutti gli adempimenti che ci sono e che la scuola deve fare però il problema secondo me sta a monte nella selezione perché il personale ATA accede per un concorso per titoli ovvero basta fare una semplice domanda avere il titolo che è il diploma ma non c'è una selezione a monte quindi per riuscire a mitigare diciamo il rischio di lavorare con una segreteria che non ha la preparazione occorre fare molta formazione quindi perché che cosa succede oggi la scuola proprio perché il ruolo del DSGA è cambiato nel tempo prima vi era la figura del segretario c'era un binomio preside segretario e il segretario non aveva molte possiamo dire non aveva molta autonomia nella propria attività perché era comunque subordinato al consiglio d'istituto e aveva dei compiti limitati l'attuale direttore ha grossa autonomia all'interno della scuola deve rimettersi sempre alle direttive del dirigente ma può anche formare col personale ha delle competenze per cui deve cercare di fare in modo che la segreteria e quindi tutte le aree della segreteria che sono appunto la segreteria l'area didattica quella del personale la contabilità riescono ad adempiere alle molteplici attività che bisogna svolgere all'interno della scuola un'altra cosa per migliorare la scuola che porterei è un sistema di qualità ovvero all'interno dell'azienda nella quale ho lavorato il sistema di qualità quindi avere delle procedure interne all'azienda permetteva di raggiungere un di dare al di dare un servizio di qualità attualmente proprio perché manca una formazione occorrerebbe proprio che le scuole investissero su questo aspetto però naturalmente avere un sistema di qualità vuol dire prima di tutto avere le risorse e poi avere sempre il personale che è limitato avere del personale che sia motivato a applicarlo questo sistema di qualità a crearlo quindi è lavoro aggiuntivo però la voglia di mettersi in gioco in ogni ruolo lo stiamo vedendo come possa fare la differenza sicuramente quello che hanno detto entrambe le DSGA è molto importante sappiate per chi non è nel mondo della scuola per chi lo è lo sa benissimo che l'80% del funzionamento cioè se una scuola funziona o meno lo fa una buona segreteria e il coordinamento del personale sia di segreteria che collaboratori scolastici che come ci dicevamo hanno cambiato i profili nel corso del tempo quindi sicuramente gli input che ci state dando sono sono molto molto importanti e vi ringraziamo di questo grazie adesso entriamo in un'altra parte consistente dell'incontro di oggi perché la parola andrà ai genitori ai docenti e infine alle istituzioni prima di lasciare spazio al dibattito quindi andiamo per ordine e chiamiamo a parlare alcuni rappresentanti dei genitori Elisabetta Bacchio e Dilia Albertengo eccoci allora io mi sono presa giusto due appunti ma giusto per essere concisa e veloce perché l'ora è già tarda e quindi sarò velocissima io sono un genitore un po' fuori dal coro nel senso che io credo che gli attori di una scuola siano gli insegnanti e i ragazzi noi come genitori possiamo sicuramente supportare i nostri ragazzi nel percorso di studio che hanno scelto loro perché sottolineo che hanno scelto loro noi come dice un bravissimo psichiatra che a me piace molto e seguo noi siamo solo degli istruttori di volo poi loro devono volare da soli quindi secondo me l'importanza nostra è di essere di supporto ai ragazzi e poi credo che sia importante aspettate perché mi sono proprio scritta queste parole perché secondo me sono belle e concise allora dare strumenti dare strumenti ai nostri professori dargli fiducia ai professori ma dargli gli strumenti perché loro così possono lavorare bene con i ragazzi soprattutto con i ragazzi adesso che hanno diverse problematiche quindi credo che i professori siano importanti e bisogna appunto dare loro fiducia ai strumenti aiutarli in questo diamogli fiducia e poi l'importanza soprattutto e chiudo dei ruoli per me è molto importante il ruolo quindi noi siamo i genitori e facciamo i genitori gli insegnanti faranno gli insegnanti e diamo fiducia ai nostri ragazzi chiudo velocissima ma pregnante ok buonasera io sono Elisabetta Bacchio sono una mamma e io sarò un po' più prolissa rispetto a Diglia allora io mi aggancerei a tre parole chiave che sono emerse la scuola è sfinita si vomita la scuola e gioia io quello da mamma da mamma anche che ha avuto problemi mio figlio ha avuto un momento critico a scuola nel primo anno quindi sono stata dalla parte sua ho cercato anche un contatto con con la preside della scuola che era allora con gli insegnanti e non è stata una bella esperienza abbiamo cambiato scuola abbiamo cambiato istituto quello che io mi rendo conto e mi ha portato molto a guardare alla scuola a riflettere sulla scuola il percorso è bellissimo e si fa tantissimo nel nido nella materna gli elementari poi sono se hai la fortuna comunque che siamo una bella scuola la nostra è stata una bellissima esperienza c'è molta attenzione c'è molto cambiamento lì le scuole medie io le chiamo medie scusate sono ancora di una generazione un po' che dove erano le medie la scuola secondaria di primo grado inizia nella scuola di nella secondaria di secondo grado c'è poca poco poco cambiamento io trovo e quello che noto è uno scontento generale quindi quando si parla della scuola che vorrei sì vorrei ma io trovo che la responsabilità è di tutti quanti e di tutti quanti noi noi siamo genitori che arrivano a volte sfiancati da un'età adolescenziale che è difficilissima dove magari i ragazzi con noi non parlano e quindi che cosa fa io vedo nella nostra classe c'è un assenteismo pazzesco i genitori non esistono non si fa gruppo non ci sono saremo 4-5 delegano la scuola i ragazzi sono scontenti degli insegnanti gli insegnanti sono scontenti della scuola c'è uno scontento generale il personale alta giustamente dice caspita noi ci troviamo con i ragazzi che vomitano nei bagni che piangono che piangono i ragazzi stanno attraversando un momento difficile e quindi quello che io vorrei e che penso come genitore che ci dovrebbe essere molto più molto più in coinvolgimento i ragazzi hanno cambiato il loro modo di fare scuola hanno proprio un pensiero cognitivo differente perché non coinvolgerli allora i programmi sono diventati liberi ma perché dall'inizio dell'anno non si parla con i ragazzi e si dice ragazzi ma voi questa classe com'è cosa vorrebbe fare coinvolgerli coinvolgere i genitori all'interno della scuola non so fare più gruppo io credo che sia la cosa principale e cercare di andarsi a compensare con questo scontento generale che c'è perché se no la scuola è veramente finita e veramente si vomita la scuola non c'è un ambiente di benessere generale e il benessere generale lo fanno tutti i componenti perché mi riaggancio una cosa che ha detto prima la scuola è dei ragazzi no la scuola non è dei ragazzi la scuola è di tutti noi tutti noi ne facciamo parte perché i ragazzi di oggi la forza lavoro di domani i ragazzini che arrivano i bambini che arrivano da una scuola che è stata attiva fa laboratori c'è un impegno arrivano in una scuola secondaria dove c'è un piattume dove si rompono le palle scusate il termine ad andare a scuola io non so quanti ragazzi ci sono che al mattino vanno e dicono bello figo oggi vado a scuola no vanno scontenti allora come possiamo fare tutti quanti a riportare la gioia nella scuola ma la gioia anche per il corpo insegnanti non solo per i ragazzi io credo che ci voglia proprio un qualcosa che non so magari dei punti di riscontro una collaborazione differente questa è la scuola che da mamma vorrei anche un maggior impegno della scuola che coinvolga i genitori che i genitori non arrivino a questo punto delle superiori e ragazzi boh senti è la scuola che ci deve pensare saluti avranno poi la loro vita eccetera quella che vorrei è una scuola più collaborativa e un'altra cosa importante che i ragazzi prima i ragazzi parlavano non siamo preparati al futuro non siamo preparati a una visione ma l'importante non è tanto la visione futura e tu che cosa sei adesso tu che valori hai non se mi dai un 2 se mi dai un 3 se io sono in cattedra e ti giudico i ragazzi non si sentono coinvolgi si sentono giudicati e già ci pensano i social a mettere like in continuazione tu vali se hai 10.000 like tu non vali niente se non hai like allora il valore dare valore dare valore ma anche che i ragazzi restituiscano un valore agli insegnanti perché ci sono pochi ma ci sono degli insegnanti che ti lasciano un segno e tu te li ricorderai per tutta la vita altri che te li dimenticherai però scambiarsi un valore darsi un valore essere tutti più coinvolti credo che sia la scuola che desidererai grazie grazie sia Betty che Edilia sicuramente l'alleanza educativa con le famiglie è fondamentale il coinvolgimento delle famiglie è importante tra l'altro dobbiamo dire che queste due mamme sono coinvolte in un progetto della scuola di mediazione dei conflitti hanno iniziato l'anno scorso un percorso proprio per essere poi punti di riferimento nel momento in cui scoppiano i conflitti e conflitti ce ne sono sempre a proposito di alleanza ringraziamo anche il presidente del consiglio d'istituto Luca Reteuna che è qui stasera grazie è molto importante quello che ci avete detto le sollecitazioni che ci avete dato esattamente come quelle delle persone che vi hanno preceduto grazie grazie continuiamo quindi dopo i genitori come abbiamo detto è la volta dei docenti quindi chiamo Roberta Testa e Giovanni Maurella allora Roberta Testa è la referente del nostro corso serale ad indirizzo moda e Giovanni Maurella del liceo Berti è il vicepreside quindi il primo collaboratore del dirigente scolastico parli prima tu va bene allora buonasera a tutti io sono Roberta Testa sono un'insegnante di italiano e storia educazione civica ho sempre lavorato nel triennio in particolare quest'anno ho avuto occasione di fare questa bella esperienza cioè spendermi per il serale in particolare la quinta l'ultimo anno del serale allora innanzitutto volevo dare un segno di positività siamo tanti insegnanti di tutti i tipi e molti condividono la visione che è stata proposta sperimentano sono attivi in modalità didattiche differenti lavorano in maniera inclusiva collaborano con gli studenti con i genitori e in particolare con il personale ATA quindi la scuola è anche qualcosa di positivo volevo dirlo per tirarci sul morale se no stasera allora quindi innanzitutto una questo dato che è fondamentale invece io volevo parlarvi brevemente avevo preparato un pezzo interessante sulla scuola con riferimenti alle competenze dell'Unione Europea eccetera eccetera ma vi dirò solo la cosa che più ritengo utile perché è tardi e vorrei essere concisa allora io volevo parlare di empatia è l'argomento che considero diciamo così fondante fondamentale in questo periodo parlerò di empatia perché a mio avviso è la strada che dobbiamo percorrere tutti insieme rispetto alle nuove sfide l'insegnante deve trovare nuove modalità nuove buone pratiche didattiche educative perché la scuola si raccorda alla famiglia e al territorio la scuola sta vivendo un momento particolare rispetto ai social quindi noi ci confrontiamo con strumenti mediatici decisamente più interessanti a volte di una lezione la scuola si diciamo confronta con modalità attentive nuove i ragazzi in questo periodo utilizzano molto TikTok che le abitua a una fruizione piacevole scorrevole veloce ed è difficile aiutarli a mantenere l'attenzione e quindi ci confrontiamo con problematiche tutti i giorni di vario tipo la fobia scolare l'anoressia la bulimia tantissime difficoltà che i ragazzi affrontano non sempre gli insegnanti sono pronti e preparati noi abbiamo il supporto spesso dello psicologo abbiamo ci confrontiamo con le insegnanti che hanno una formazione sul sostegno che ci sono d'aiuto ma la cosa che secondo me deve diventare diciamo così uno strumento a portata di mano di tutti è l'empatia allora l'empatia ci permetterebbe perché è già sperimentata in diversi luoghi in particolare nelle scuole del nord Europa del mondo in Danimarca in Svezia è uno strumento che ci permette di lavorare meglio il soggetto è al centro è lo studente ma viene coinvolto fortemente anche il docente in Svezia e in Danimarca l'empatia è una materia è una strategia didattica a partire dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori l'empatia permette di creare connessioni connessioni tra le persone in queste scuole i bambini e i giovani adulti e gli studenti hanno tempo per sentirsi prendere coscienza delle loro emozioni e quelle degli altri qualsiasi tipo di emozione paura rabbia frustrazione imparano a dare un nome ai sentimenti questo permette di essere più inclusivi di sensibilizzarli a temi quali l'ecosostenibilità la cittadinanza la costituzione perché attraverso un lavoro su se stessi la collaborazione si riesce a proporre temi che sono di estrema attualità e di emergenza quindi gli esempi sono di vario tipo per esempio nelle scuole svedesi si è visto che quest'ora di empatia è servita rispetto al disagio giovanile in particolare rispetto al bullismo che è un problema molto grave che si sente si vede si tocca nelle scuole anche per quanto riguarda l'idea del consenso quindi il rispetto nei confronti della diversità ma anche soprattutto per evitare la discriminazione di genere per evitare la violenza il consenso la cosa fondamentale comprendere quando qualcosa è gradito o sgradito quando è accettato o non accettato accettare un rifiuto riuscire a gestire la propria rabbia allora io credo che l'empatia si possa anche se non come materia anche senza avere per forza un'ora di lezione si possa attivare sempre in qualsiasi contesto ci sono metodologie didattiche che lavorano sull'empatia come il cooperative learning per esempio l'attività di gruppo che permette ai ragazzi di responsabilizzarsi di socializzare di utilizzare la didattica in maniera personale di imparare ad imparare di sviluppare la metaconoscenza di essere interdisciplinari essere collaborativi ecco allora io credo e qui concludo che la strada per noi docenti a volte un po' smarriti perché non tutti abbiamo la fortuna di avere dirigenti che sono sensibili ai nostri problemi ai problemi dei ragazzi al problema della gestione della scuola io credo che la strada sia questa che la buona scuola sia questa le buone pratiche siano queste guardare all'innovazione formarsi informarsi e avere una visione nuova buongiorno a tutti buonasera ormai io sono in doppia veste qui docente vicario quindi inizio a parlare probabilmente sono la pistola di cui parlava Lorenzo perché è un mio allievo inizio a parlare come docente concordo pienamente rispetto al discorso che si faceva prima il dottor Parodi della storia per esempio il fatto che effettivamente uno dei grossissimi problemi è che noi scambiamo la storia con l'educazione civica perché non siamo in grado di arrivare e di star dietro ai tempi e quindi di arrivare a parlare dell'attualità non ci riusciamo per tantissime ragioni per i programmi soprattutto perché l'esame di Stato richiede ancora una programmazione che è assurda rispetto ai tempi e quindi quello bisogna stare quindi l'unico legame che ancora esiste rispetto a quello che diceva i programmi vero non esistono però poi l'esame di maturità bisogna portare ancora questi programmi io personalmente non uso il libro di storia ci sono dei miei ex allievi lì che possono non uso il mio libro di storia uso parlo solo con gli appunti cerco di collegare insomma con i ragazzi e sono assolutamente come dire favorevoli anche all'uso della tecnologia spiegato anche con l'intelligenza artificiale perché bisogna conoscere anche gli strumenti per poterli utilizzare e quindi mi collego adesso nell'altro ruolo a un fatto cioè mi viene una similitudine il problema della scuola molto spesso è come il genitore che cerca di adattarsi ai cambiamenti dei figli ora che ti sei adattato è già di nuovo cambiato e questo è il fatto che avviene nella scuola perché la scuola cambia in continuazione noi pensiamo sempre di avere davanti gli stessi allievi invece cambiano generazione su generazione e quindi abbiamo una grossissima difficoltà a cambiare tant'è vero che per puro caso io sono figlio di un preside che pescando nei ricordi di mio padre ho tirato fuori un articolo del 1984 una lunghissima intervista di mio padre che parlava della scuola che avrebbe voluto era il 1984 posso dirvi che è cambiato pressoché nulla rispetto ad allora ve lo posso testimoniare venendo siccome per sintesi cerco di essere il più possibile concreto proposte perché mi ritengo una persona abbastanza pragmatica tre o quattro cose sono fondamentali oggi la scuola deve prendere coscienza che siamo di fronte a una fragilità dei ragazzi che per cui io ho solo più da mettermi il camice da medico quindi per esempio una cosa che è diventata una figura che non si pensava possesse essere necessaria è una os all'interno delle scuole come nostre perché purtroppo questa è la verità noi abbiamo una media di due tre anche quattro ambulanze chiamate durante la settimana è un discorso brutto da dirsi ma bisogna capire che c'è un cambiamento dobbiamo adattarci al cambiamento seconda cosa se ne parlava prima anche con le DSGA parlo sempre in questo caso in funzione di vicario c'è una burocrazia pazzesca all'interno della scuola questa burocrazia blocca tantissime iniziative che si potrebbero portare avanti ora chi conosce la storia sa che più un mondo aumenta la burocrazia più va verso il terzo mondo e questo è sempre stato così nella storia perché c'è tutta questa burocrazia probabilmente perché gli italiani non si fidano degli italiani quindi bisogna continuare a controllare su controllare eccetera e allora se un computer possiamo pagarlo 100 euro lo dobbiamo pagare 200 perché ci devono essere tutta una serie di passaggi burocratici si fa finta di controllare certo perché poi si potrebbe fare non solo banalmente penso al fatto che non c'è una fiducia nella scuola anche su come vengono usati i soldi perché vengono tutti compartimentati non si può passare dal FIS aiutatemi ok quello che era non si può passare cioè non possono passare i soldi da una parte all'altra se si avanza l'uno non possono essere date all'altra eccetera ora tutte queste cose sono se le si vede da dentro veramente tutta una serie di ostacoli che non permettono veramente alla scuola di utilizzare e anche permettetemi di dire una scuola che le utilizza bene una scuola che non le utilizza bene faccio l'ultimo esempio poi chiudo PNRR no per chi non lo sapesse sono stati dati cosiddette azione 1 azione 2 cioè dei fondi due terzi per diciamo per il funzionamento della scuola innovazione quant'altro un terzo per i laboratori ora in una scuola come la nostra un laboratorio sì ha senso ma fino a un certo punto sono una caterva di soldi che si doveva spendere per forza per i laboratori in un stato tecnico all'artistico hanno senso da noi non è che potevi usarli per l'altro no per forza di cosa bisognava usare per quello morale da faula avremo un laboratorio pazzesco però chi utilizzerà poi tutto questo materiale e allora l'ultima cosa che mi pongo è il discorso sulla formazione vengono pagati i formatori bisognerebbe pagare probabilmente anche chi è formato cioè i docenti i docenti dovrebbero essere pagati per la loro formazione e permettetemi di dire ultima cosa anche obbligati a fare un certo tipo di percorso perché se abbiamo software eccetera per essere utilizzati per essere utilizzati bisogna che necessariamente si formino i docenti e possano utilizzare essere messi in condizioni di poterli utilizzare grazie allora grazie a questi esempi di docenti appassionati di cui si parlava prima sono parecchi i docenti che ci credono c'è anche una parte però come abbiamo sentito nelle esperienze di ragazzi e di genitori che invece necessariamente hanno bisogno di ripensare anche al proprio ruolo se è proprio quello il loro posto perché non tutti possono insegnare cioè dobbiamo approcciarci a questo lavoro così delicato con una certa formazione di partenza ma anche io direi ripensando alla forma di reclutamento che non deve essere solo contenutistica ma ma deve necessariamente prevedere delle competenze altre quindi grazie prima di dare la parola al sindaco che ha avuto tutta questa pazienza dare la parola a due insegnanti dell'ICI di Caselle che hanno preparato una lettera per i loro bambini a te a te mia cara scuola vogliamo parlare e con il cuore in mano vogliamo immaginare una scuola nuova una scuola vera una scuola pronta a una nuova primavera ti vorremmo libera da schemi da voti verifiche ansie scadenze perché di tutto questo non hanno bisogno le intelligenze ti vorremmo veloce verso il futuro e calma durante le fasi del lavoro più duro ti vorremmo moderna nella programmazione ma antica nella riflessione ti pensiamo spesso stanca ed affannata tra le tante carte ingabbiata e mentre fuori i ragazzi fremono di moderne emozioni tu continui a richiamarli con le interrogazioni ti immaginiamo così grigia di colore se non ricevi amore l'amore dei tuoi ragazzi con le menti veloci come i razzi è pronti a prendere il volo se solo apri le braccia verso di loro vogliono poco per scoprire dello studio il piacere basta battere le barriere fate di ansie per un voto agognato senza le paure che venga abbassato basta una pausa tra ogni lezione per far tornare la concentrazione basta scoprire il senso di ogni nozione per comprendere ed amare la lezione così ti sogniamo semplice e leggera dei ragazzi amica e vera e non importa se è solo un sogno perché sei la scuola che vorrei Allora finalmente il sindaco Giuseppe Marsaglia Grazie sindaco Allora forse è meglio questo Si sente? Ecco allora buonasera a tutti dicevo è un po' impegnativa la mia posizione qui per il fatto che sono l'unico al di fuori del mondo della scuola e perlomeno all'interno della scuola sono un amministratore di un comune un sindaco di un comune che conoscete perché è Caselle vicino a Torino un comune di 15.000 abitanti a ridosso della grande città con le scuole non abbiamo l'ordine superiore le scuole medie detto in termini come si usava una volta abbiamo dall'asilo nido alla materna elementare e medie per un totale di circa 1500 bambini che frequentano la scuola perciò io vedo la scuola dal mio punto di vista cioè dei problemi che mi vengono tutti i giorni a dover affrontare che devo affrontare tutti i giorni perciò vedo di più il discorso famiglia studente rispetto al discorso esclusivamente studente che è uno dei problemi più grossi che abbiamo oggi la scuola deve dare un servizio alla famiglia la famiglia è cambiata negli anni lo sappiamo tutti si è modificato si è modificato il mondo del lavoro ha portato a far sì che i genitori lavorano entrambi perciò noi abbiamo un problema di assistenza che parte dalle 7 7 e un quarto del mattino alle 5 e mezza 6 di sera perciò ci va una scuola che sia in grado di dare un servizio a 360 gradi altrimenti c'è il calo demografico perché quando uno fa un figlio poi dovrebbe smettere di lavorare per poterlo assistere da noi funzionano tantissimo i nonni ma non tutti hanno la possibilità di avere i nonni perciò noi partiamo con dei servizi che partono dallo scuola bus al mattino alle 6 e mezza a raccogliere i bambini per le campagne arrivare al pre posto scuola ecco questo è uno dei temi più importanti che ci troviamo noi come amministratori da supportare le famiglie con dei costi che ci sono ma sono spesi bene perché parliamo sempre del nostro futuro da qui mi collego all'altro aspetto che coinvolge l'amministratore e la scuola che sono le strutture le strutture qualche studente prima diceva vorrei essere sicuro di arrivare a casa ecco noi nelle strutture investiamo tantissimi soldi perché abbiamo strutture alcune nuove nuove altre risalgono all'inizio del novecento e sono strutture come tutte le scuole la scuola è forse l'ambiente dove è cambiato meno di tutti sono andato a scuola io c'erano fatto l'altra volta questo esempio il banco la cattedra la lavagna tutti seduti lì cioè si è modificato il mondo del lavoro in quasi tutti i settori la classe adesso abbiamo cambiato la lavagna non è più la lavagna ma è diventata la SLI la LIM che abbiamo fatto un passetto avanti però se io oggi e qui vengo alla scuola che vorrei dovessi commissionare un progetto per realizzare una scuola nuova mi troverei dei professionisti che mi portano una scuola con il corridoio l'aula 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 il fondo magari la mensa e al fondo della mensa nel giardino la palestra questa è la scuola che questo è il modello di scuola allora se ci deve essere un cambiamento per quel che riguarda le amministrazioni dovremmo iniziare da un nuovo progetto di scuola che soddisfi le esigenze nuove che lo studente tutto non solo lo studente ma anche i dirigenti le insegnanti tutti devono avere collaborare per riuscire a trovare una struttura idonea che soddisfi le esigenze di tutti perciò la prima cosa che inizierei sarebbe veramente iniziare dalle strutture che ormai sono alcune obsolete ma non tanto obsolete nella struttura perché ci investiamo obsolete dal punto di vista funzionale si trovano magari in luoghi non idonei e tenete conto che se pensiamo a quello che ho detto prima che il servizio che deve dare una scuola non è solo in funzione dell'insegnamento ma è sette otto nove ore che lo studente passa all'interno di una scuola c'è la necessità che ci siano tutti i servizi che vanno dallo sport dall'intrattenimento la famiglia è sicura perché lascia il proprio figlio in un ambiente sano tranquillo e che educa che educa i propri figli e allora abbiamo bisogno di strutture diverse io punterei veramente alla scuola che vorrei cominciando dalle strutture e vi ringrazio per aver venuto grazie veramente grazie al sindaco intanto per la pazienza per essere stato a questo nuovo format e quindi le istituzioni che ci ascoltano e ci danno loro parere quindi non solo un modello educativo diverso ma anche la concezione degli spazi è molto importante non solo il setting d'aula ma proprio concepire architettonicamente una scuola in maniera diversa nonostante quello che ci ha raccontato Giovanni e quindi di questo articolo in cui c'era l'intervista di suo papà allora dirigente scolastico di tanti anni fa nell'80 85 che non è cambiato nulla non è vero che non sia cambiato nulla è cambiato poco è cambiato poco e dobbiamo comunque non perdere la speranza ma investire e crederci il fatto di essere qui oggi stasera ormai di sabato e di interrogarci di porci dei problemi degli interrogativi di aver voglia di metterci in gioco penso che sia un un bel input è una bella speranza di cambiamento poi ognuno nel piccolo come si dice no la goccia comunque è importante perché goccia dopo goccia veramente abbiamo poi gli oceani è esatto allora abbiamo il dibattito giusto? sì allora chi ha voglia di fare delle domande di chi ha ancora l'energia ok poi la dirigente del deliceo Berti sì buonasera io sono stata vieni 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 grazie di essere qui grazie a te grazie a te organizzato e ci ha coinvolto ha coinvolto altre scuole ha coinvolto anche gente che non è di scuola che ci porta il proprio punto di vista volevo semplicemente dire questo le suggestioni sono state tante infatti prima di andare via voglio fare la foto alle parole chiave perché sicuramente ci aiuteranno no? perché sono parole che vengono da una quotidianità a volte sofferta come abbiamo sentito dai ragazzi ma anche dagli adulti dice perché ci sono anche docenti ci sono anche che fanno fatica a cercare di stare al passo con ciò che sono i bisogni di questi ragazzi con una società che evolve continuamente con una società che nell'ultimo periodo pandemia guerra sta vivendo una situazione pesante la scuola fa fatica no? per quanto io già rispetto sono a liceo Berti da tre anni il primo anno che sono arrivata c'era ancora il grosso della pandemia che era presente tra noi no? e man mano vedo che il personale della scuola ma i ragazzi e le ragazze stesse hanno cercato di trovare nel fare squadra delle soluzioni cose che tre anni fa ci spaventavano e ci hanno trovati totalmente magari impreparati questa fragilità forte dei ragazzi per quanto ancora pesa moltissimo ora abbiamo delle abbiamo creato delle reti delle reti con il territorio con i servizi con l'ospedale con il Regina Margherita purtroppo si lavora tantissimo che ci hanno dato forza ma ancora c'è tanto da cambiare per essere efficaci per far raggiungere davvero con benessere il maggior successo formativo possibile che vuol dire dei ragazzi che sapranno poi agire nella società non dei ragazzi che hanno delle sole competenze disciplinari come dicevo oggi all'open day secondo me un nodo cruciale di cui si è parlato e non parlato è la questione della valutazione secondo me la questione valutativa soprattutto la secondaria di primo e secondo grado perché prima la mamma diceva il nido l'infanzia la primaria sono luoghi dove c'è maggior cura maggior attenzione anche rispetto appunto al capire che cosa si sa fare i bimbi cosa sanno fare cosa non sanno fare si va soft poi crescono e la valutazione sembra essere un peso prima i ragazzi hanno detto voi ci vedete come un voto ma in realtà non non è così nella misura in cui anche i ragazzi io ho fatto i consigli di classe in questi giorni rispondono alle sollecitazioni della scuola proprio solo su una cosa prestazionale cioè tanto è vero che alcuni docenti lamentano che se non c'è un'interrogazione imminente alcune loro lezioni non vengono ascoltate perché magari loro dopo hanno verifica quindi leggono per la verifica dopo cercano di quindi sicuramente la valutazione deve essere una valutazione di altro tipo formativa partecipata la costruzione del percorso deve essere insieme ai ragazzi ma anche renderli consapevoli e sapersi autovalutare secondo me si deve andare verso e lo dico molto convinta anche dal percorso perché io arrivo da una formazione io sono una ex maestra adesso faccio questo lavoro da 12 anni secondo me il voto che a tutti sembra chiaro non è così e pone in questo momento per come sono i ragazzi molta ansia da prestazione dato anche a volte da noi famiglie sono anche mamma di una ragazza di 16 anni perché quando ci dicono ovviamente ho preso 7 ho preso 8 siamo abbastanza tranquilli ci allarmiamo quando hanno delle insufficienze come giusto che sia ma non chiediamo mai che cosa ha imparato oggi diciamo com'è andata la verifica e quel comandato vuol dire che cosa hai preso ok quindi secondo me è tempo di la normativa anche che abbiamo ora ci permetterebbe di utilizzare il voto numerico alla fine del quadrimestre o del trimestre e alla fine dell'anno scolastico e far sì che nelle valutazioni intermedie noi descriviamo che cosa sanno fare che cosa non sanno fare e quali sono i consigli per raggiungere il successo formativo che noi vogliamo e secondo me questo tipo di valutazione che sicuramente implica quello che dicevate prima una formazione diversa una formazione pagata ai docenti che venga anche valorizzata perché si è parlato poco al mondo della scuola non si si pensa sempre che noi a giugno finiamo che nelle vacanze di Natale non lavoriamo in realtà c'è un sottolavoro enorme per arrivare dove si vuole arrivare che deve anche essere diciamo riconosciuto non c'è lavoro al mondo dove non viene riconosciuto l'effettivo impegno orario quindi secondo me il cuore è una valutazione formativa per l'apprendimento e come apprendimento non solo più una valutazione dell'apprendimento cioè io valuto cosa so di inglese cosa so di matematica ma mentre i ragazzi sono valutati devono imparare qualcosa rispetto al proprio percorso grazie grazie Filomena sicuramente l'aspetto della valutazione lo sappiamo è un nodo cruciale avremo altri momenti di riflessione qui abbiamo portato la scuola senza voti e avremo altri incontri e altri momenti ci sono Raffaella voleva dire vieni Raffaella è il secondo il mio secondo collaboratore fa parte dello staff allora io in realtà volevo dire una cosa riguardo al vuoto non so come abbia fatto a sentire che volevo dire qualcosa rispetto a valutazione semplicemente che secondo me bisognerebbe depotenziare la capacità che il vuoto ha sui ragazzi di non apprendere che è incredibile perché se non si mette il vuoto loro fanno delle cose se c'è la valutazione imminente ne fanno un'altra ed è impressionante in classe vedere questa cosa qui ed è tristissimo è un vero no lo so lo so lo so lo so esattamente ma io sono assolutamente d'accordo sono assolutamente d'accordo e sono una delle persone che tende a non mettere i voti ma i ragazzi vengono a chiedermi il voto perché perché è novembre non abbiamo ancora un voto e in questo senso io dico va depotenziata cioè va proprio destrutturata questa cosa è importante grazie Raffaella se non ci sono altri interventi possiamo sì possiamo chiudere dicevo ah ci dicono dalla regia ok quindi tempismo perfetto grazie a tutti di aver avuto la pazienza di rimanere fino adesso grazie grazie a tutti